Attimi di tensione nella nottata intorno alle due di questo giovedì in un locale pubblico di Cervignano del Friuli, un pub pizzeria-vineria in Viale Trieste, a causa di una lite tra avventori, segnalata alle forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri del Norma di Palmanova, un giovane del 2004, cittadino ucraino, residente nel territorio, è stato trovato armato di un coltello. Da quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri, il ragazzo, durante il diverbio con altre persone, avrebbe preso il coltello dalla cucina del locale, sul momento, non lo aveva dunque già con sé. Dopo averlo afferrato, non ha ferito nessuno, né la lite, poi degenerata in una rissa. Il giovane è stato portato in caserma e denunciato per possesso ingiustificato di arma.